Un documento della funzione pubblica CGL sulla situazione di instabilità che si è creata in questi ultimi due anni presso la Fondazione Giglio di Cefalù dove si sta assistendo alla perdita di professionalità, al mancato turnover, al sovraccarico di lavoro e di stress per la copertura dei servizi da parte del personale rimasto. La denuncia è maturata al termine di un'assemblea organizzata dalla CGL per fare il punto della situazione. Il documento si conclude con la richiesta di un incontro con l'assessore alla sanità Gucciardi per dare seguito ad un confronto costruttivo per il rilancio dell'ospedale. Negli ultimi due anni scrivono in una nota la Funzione Pubblica Aziendale e la Segreteria FP CGL Palermo la direzione strategica ospedaliera non è stata in grado di dare le giuste motivazioni professionali e tecnologiche nelle varie branche determinando la perdita progressiva di diverse decine di unità professionali ad alta specializzazione con grande esperienza maturata sul campo della realtà ospedaliera cefaludese. Durante l'assemblea la Funzione Pubblica ha rilevato come non si sia provveduto alla pronta e congrua sostituzione dei professionisti dei vari settori che hanno abbandonato la struttura ospedaliera non realizzando per tempo un regolare turnover che consentisse di reintegrare i colleghi andati via con altri di adeguata esperienza professionale che potessero garantire gli stessi livelli scientifici precedentemente forniti all'utenza. Dei 144 posti previsti in organico ne risultano coperti al momento 100 e l'essodo di professionalità continua. Si sono interrotti i servizi sanitari precedentemente erogati e riversando sovraccarichi insostenibili su altri lavoratori in termini di monte orario mortificando le motivazioni del personale tutto allontanando le giuste motivazioni professionali per la qualità del servizio prestato aggiunge la Funzione Pubblica Cigelle. La direzione strategica con l'avallo della direzione infermieristica ha reso impossibile in molte unità operative di far godere il personale sanitario interessato del riposo necessario per garantire un adeguato recupero psicofisico. Il mantenimento della produttività assicurata negli anni precedenti da questa fondazione è ricaduto esclusivamente sulle professionalità rimaste che, porre in numero insufficiente, hanno mantenuto all'utenza una elevata qualità dei servizi offerti. Un'altra preoccupazione riguarda il contratto. Le condizioni contrattuali che legano i dipendenti alla fondazione scrive la Cigelle, svantaggiose e demotivanti rispetto a qualsiasi altra forma contrattuale pubblica nonostante l'ospedale sia integrato nella rete spedaliera regionale e classificato come ospedale di primo livello. La direzione strategica, secondo la segreteria aziendale della funzione pubblica e la segreteria provinciale della funzione pubblica Cigelle Palermo, si è mostrata insensibile alle problematiche evidenziate durante i confronti con le organizzazioni sindacali affrontando con tempi eccessivamente lunghi e modalità inadeguate le criticità dei vari reparti.